Per definire le funzioni seno e coseno, abbiamo utilizzato una particolare circonferenza centrata nell'origine degli assi e avente raggio di lunghezza 1. Più precisamente, partendo da tale circonferenza, detta anche goniometrica, abbiamo chiamato coseno e seno di un angolo alfa generico, rispettivamente la scissa e l'ordinata di un punto P, che abbiamo preso sulla circonferenza associandolo all'angolo alfa. Il primo modo che abbiamo per definire la tangente di un angolo è proprio quello di sfruttare le definizioni di seno e coseno. Per la precisione, la tangente di un angolo vale esattamente il rapporto tra l'ordinata e l'ascissa del punto P, e cioè, in virtù di queste definizioni, proprio il rapporto tra seno e coseno dell'angolo. Questa frazione, mediante la quale stiamo definendo la tangente, inoltre, ci porta a riflettere sull'esistenza della tangente stessa. Avendo a che fare con una frazione, infatti, sappiamo che essa esiste solo quando il denominatore, e quindi il coseno dell'angolo, è diverso da zero. Questo fatto si verifica quando alfa è diverso da pi greco mezzi più un multiplo intero dell'angolo piatto. Per farla breve, questa scrittura ci permette di raccogliere tutti quei valori per i quali non si può definire la tangente di un angolo al variare di k nell'insieme dei numeri interi. Se k fosse zero, ad esempio, avremmo, sostituendo k uguale zero qui dentro, che alfa sarebbe diverso da pi greco mezzi. Effettivamente, se alfa valesse proprio pi greco mezzi, l'ascissa del punto pi sarebbe zero e la stessa sorte spetterebbe al coseno. Avendo però osservato che la tangente esiste quando il coseno di alfa è non nullo, per evitare appunto che esso si annulli, non possiamo considerare angoli come ad esempio alfa uguale pi greco mezzi, proprio come riportato qui. Lo stesso ragionamento lo possiamo ripetere, ad esempio, per k uguale 1. In questo caso, infatti, dovremmo escludere pi greco mezzi più pi greco, e cioè tre mezzi pi greco o 270 gradi. A 270 gradi, appunto, succede ancora che l'ascissa del punto pi e conseguentemente il coseno si annulla, così come continuerebbe ad annullarsi considerando, a seguire, tutti gli altri k interi. Per riassumere, dunque, la funzione tangente esiste solo quando alfa è diverso da questi valori. Una seconda definizione, che si può dimostrare essere perfettamente equivalente a quella appena mostrata, sfrutta invece l'idea di retta tangente alla circonferenza goniometrica in un punto, che chiamiamo A. In particolare, detto T, il punto in cui il prolungamento del segmento OP interseca la retta tangente, definiamo la lunghezza del segmento TA, che poi è proprio l'ordinata del punto T, tangente dell'angolo alfa. In maniera simile a quanto fatto per le funzioni seno e coseno, utilizziamo proprio questa costruzione per capire come costruire il grafico della funzione tangente. Analizziamo, dunque, come varia l'ordinata del punto T al variare dell'angolo alfa man mano che percorriamo la circonferenza goniometrica, spostandoci tra primo, secondo, terzo e quarto quadrante. Iniziamo dal primo quadrante, partendo proprio da un angolo X nullo, per il quale anche la Y con T vale zero, visto che T coincide con A, che ha ordinata nulla. In questo grafico, dove con X stiamo indicando l'ampiezza dell'angolo e con Y il valore Y della tangente, rappresentiamo perciò il primo punto avente ascissa zero, come l'angolo appunto, ed ordinata, cioè Y anche essa nulla. Man mano che ci spostiamo verso la posizione Q, come puoi osservare, l'ordinata del punto T, e quindi la tangente dell'angolo, aumenta. Al variare dell'angolo X in questo range, l'ordinata Y, inoltre, è sempre un numero reale positivo che varia lungo questo semiasse. In questo primo settore si verifica che possiamo rappresentare dei punti come questi che seguono questo andamento che rispecchia esattamente quanto osservato con la circonferenza goniometrica. Quando X varia tra zero e pi greco mezzi, anche le Y diventano mal mano più grandi. Osserviamo inoltre che i punti rappresentati si avvicinano sempre di più a questa retta di equazione X uguale pi greco mezzi, ma come abbiamo visto, proprio in corrispondenza di X uguale pi greco mezzi, la tangente di X non esiste, e dunque non potremo mai trovare un punto sulla retta gialla, ma solo punti come questi arancioni che si avvicinano sempre di più al crescere dell'angolo X. Studiamo adesso cosa succede quando l'angolo X varia tra pi greco mezzi e pi greco, cioè quando siamo nel secondo quadrante. Per quanto visto prima, quando X è uguale a pi greco mezzi, la tangente non esiste. Poco oltre pi greco mezzi, invece, la tangente è questa ordinata del punto T che è negativa. Spostandoci verso Q, osserviamo che l'ordinata del punto T è un numero negativo sempre più vicino a zero e, anzi, diventa zero in corrispondenza dell'angolo X uguale pi greco. Sul nostro grafico, allora, possiamo rappresentare punti di questo tipo che hanno, appunto, tutti ordinata negativa ad eccezione di quel punto con ordinata nulla che si ottiene quando X vale pi greco. In questa porzione di grafico, la funzione tangente ha perciò questo andamento. Andiamo oltre, analizzando cosa succede facendo variare l'angolo X tra pi greco e tre mezzi pi greco. In questo caso, il punto P si muove nel terzo quadrante e, come puoi osservare, l'ordinata del punto T torna ad essere positiva e va aumentando man mano che ci avviciniamo a Q, che si trova in corrispondenza di un angolo di tre mezzi pi greco. X uguale tre mezzi pi greco, però, allo stesso modo di X uguale pi greco mezzi, è un valore per il quale la tangente non esiste e, quindi, nuovamente, considerando la retta di equazione X uguale tre mezzi pi greco, non troveremo mai punti che appartengono a tale retta, ma solo punti come questi che ci vanno via via più vicino senza mai raggiungerla, esattamente come tra zero e pi greco mezzi. L'andamento della funzione in questo tratto, allora, ricalca esattamente quello del tratto azzurro, in questo modo. Per finire, tra tre mezzi pi greco e due pi greco, l'ordinata del punto T torna ad essere negativa, e man mano che il punto P si muove in senso anti-orario nel quarto quadrante, essa si avvicina sempre di più a zero. Proprio quando si completa il giro, cioè per X uguale due pi greco, la tangente vale zero. In questa porzione, allora, l'andamento della funzione ricalca quello assunto da questa parte, e anche in questo caso, non troveremo mai punti che giacciono su questa retta, ma punti che si allontanano sempre di più da essa. In definitiva, ripetendo questi ragionamenti, cioè continuando a ruotare sulla circonferenza goniometrica, il grafico completo della funzione tangente, detto appunto tangentoide, è fatto così. Questa animazione, della quale ti lascio il link in descrizione, ci permette di riepilogare in maniera dinamica la costruzione del grafico della funzione tangente. Per concludere, proprio questo grafico ci consente di studiare il periodo della funzione. Per capire quanto vale il periodo, dobbiamo chiederci, giusto per intenderci, qual è il minimo intervallo per il quale la funzione si ripete allo stesso modo. Se ad esempio consideriamo questo punto, dobbiamo chiederci, in parole povere, a quale distanza minima è possibile incontrarlo ancora. La risposta, per questo e per ogni altro punto, è chiaramente pi greco, in quanto pi greco è appunto il valore di questa distanza. La considerazione sul periodo si esprime matematicamente tramite questa equazione, che stabilisce che il valore della tangente di un angolo alfa qualunque è uguale a quello della tangente calcolata in corrispondenza di quest'altro angolo, che vale alfa più un multiplo intero di pi greco. Anche stavolta il tempo a nostra disposizione è terminato. Se questo contenuto ti è stato utile e vuoi sostenere il progetto, puoi condividere il video e lasciare like. Non dimenticare inoltre di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video che usciranno. Se ti va di contribuire a migliorare la qualità dei video futuri, puoi fare una donazione al link che trovi in descrizione. Per non perderti altre risorse, come i formulari che riassumono il contenuto dei video, seguimi sui profili Instagram e Facebook. Io sono Gianmarco e ti auguro buono studio!